Salve a tutti, sono Camilla, la pasticceria d'oggi pensieri, una pasticceria aperta da poco a Firenze, in via Valentina, angolo di Avocale Vitte. Oggi per voi presentiamo una ricetta particolare, abbiamo scelto di introdurre una banca particolare che ora ha preso campo nel mondo culinario, che è la bacca noji. Questa torta è una torta a base di carote e mele. Abbiamo infatti le mele che vengono precedentemente ponte, poi abbiamo delle carote tritate, bacca di vaniglia per aromatizzare il dolce, come abbiamo detto prima le bacche noji, della scorza di limone e un pizzico di sale, dello zucchero di canna, del latte di soia per i nostri amici vegani, dell'olio di riso. In alternativa al latte di soia possiamo mettere uno yogurt, per chi non ha polenio o per chi non è vegano, un yogurt normale, altrimenti un yogurt di soia aromatizzato a polenio. E qui abbiamo della farina e dell'amido di mais. in alternativa al latte di soia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.